Salve a tutti, mi trovo qua in questo paese in cui io ho pubblicato sempre il mare e questo si chiama Bovalino Marino, provincia di Reggio Calabria, c'è una bellissima piazza grande e niente, ecco quello che faccio, pubblico le storie e dei ricordi, tutto qua, non è che io vado raccontando cavolate, a me non mi piace litigare con nessuno, mi piace fare dei ricordi, allora quella è una scuola, questa è la chiesa, è tutto qua ecco questo è il paese dove io sono venuto nel 2020 e adesso è da molto che sto qua ma non è che sto per qualcuno, ho deciso di ritornarci di nuovo, ma quando sono sceso io sono andato più lontano da qua, che poi sono ritornato un'altra volta qua, perché ormai conoscevo e ci sono ritornato di nuovo non è che io vado facendo cattiverie oppure vado parlando male e poi vengo giudicato male, io mi creo solo dei ricordi poi tutto il resto non mi interessa, io cerco farmi di una stabilità, di stare bene e sedermi felice ma non do fastidio a nessuno, sto solo cercando di farmi un altro futuro ma non do fastidio a nessuno, sto solo cercando di farmi un altro futuro ma non do fastidio a nessuno, sto solo cercando di farmi un altro futuro va bene, io vi saluto e spero che vi piaccia questo video che ho fatto a tutti quelli di youtube credete che non c'è niente di male io pubblico quelle che mi piace che mi vada a pubblicare ma se qualcuno non piace non mi viene a guardare sulla mia pagina quello è comandante dei vigili urbani o mai li conosco le persone qua quella è una ragazza che sta con il bagaglio anche una bella ragazza, non è male però io non ci vado vicino perché potrebbe essere una cattiva ragazza perché sono a che mi costa me andarci vicino perché come si dice il napoletano fa sempre colpo dove va va e io non voglio farlo questo voglio tenermi a posto mio va bene statevi bene e spero che mi fate salire con i like grazie a tutti grazie a tutti